Ciao, mi chiamo Serena e lei Sabrina, la persona che sta reclendendo questo video. Siamo due libere professioniste della provincia di Modena e siamo qui oggi per parlarvi del nostro portale che si chiama Italianity. Italianity è un contenitore per aziende italiane del settore gastronomico che vogliono far conoscere i loro prodotti sia in Italia che all'estero. Le descrizioni di questi prodotti vengono fatte sia in italiano che in inglese. Riteniamo che il settore gastronomico susciti grandi interessi nei consumatori, sia italiani che stranieri. Per questo motivo abbiamo appunto creato questo portale Italianity. Non vorremmo perdere tanto tempo nelle parole ma vorremmo farvi vedere l'immagine di quello che secondo noi è il concetto dell'italianità. Su questo tavolo abbiamo messo alcuni, soltanto una piccolissima parte dei prodotti che ci rappresentano sia in Italia che all'estero. E comunque se volete sapere qualcosa di più sul nostro portale potete cliccare su www.cercatrovaonline.it All'interno della home page troverete questo logo e cliccando su questo logo accederete direttamente al nostro portale. Ciao, grazie! 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 Grazie!